ciao ragazzi bentornati di nuovo nel mio canale oggi vedremo che cosa è un server dns server dns può essere paragonato un esempio che mi faceva sempre il mio professore di informatica a un registro telefonico io sul registro telefonico vado a ricercare il numero di telefono di un utente quando non lo conosco quindi vado a ricercare nell'indice vedo il numero di telefono associato con l'utente e lo chiamo ecco un server dns funziona in maniera molto analoga se io voglio tramite il browser avere la pagina di google.it nella barra degli indirizzi digito www.google.it il server dns non fa altro che restituirmi con la pagina ovvero associa associa a quel nome di dominio perché luce là nei registri quel nome di dominio google.it un indirizzo ip ben preciso quindi la richiesta dns parte dal mio computer arriva al server dns di zona lui risolve e mi manda indietro l'indirizzo ip vi faccio un semplice esempio per farvi capire che cosa sto dicendo apriamo il prompt dei comandi e pinghiamo google vedete in questo caso il server dns ha risolto ha risolto il nome di dominio il nome di dominio e mi faccio ctrl c ctrl v nella barra degli indirizzi vedete che la pagina che mi ritorna indietro è proprio quella di google ovviamente se vado a non so se l'uno corrisponde ho cambiato gli indirizzi ip corrisponde a un determinato corrisponde sempre fa parte sempre ovviamente delle indirizzi assegnati google però se digito 2.2.3.4 non lo so se mi torna indietro qualcosa vedete che continuo a girare la rotellina sia che a questi indirizzi ip non è associato nessuna pagina o meglio non è associato nessun nome di dominio i nomi di dominio si trovano in dei registri e i cosiddetti registri di internet quindi ad ogni nome di dominio corrisponde un indirizzo ip ben preciso ovviamente non ci possono essere nomi di dominio diversi associati a un indirizzo ip no questo non succede come si setta un server dns sul proprio computer ovviamente se avete il router di casa sicuramente tutti quanti abbiamo un router a casa l'impostazione che tutti il 90 per cento delle persone a è questa qui quindi andiamo su sezione wifi modifica opzioni scheda proprietà andiamo nella sezione ipv4 andiamo su proprietà e sicuramente avrete spuntate in maniera ottiene automaticamente un indirizzo ip e ottieni indirizzo serve di essere in maniera automatica a questo modo ovviamente se io ora vi faccio un esempio ipotizzo di mettere un indirizzo p a caso punto 0.0.2 10.2.3.4 sono indirizzi p che sicuramente non sono dei server dns faccio ok chiudo la connessione internet c'è sempre ora vedrete che la risoluzione dns non andrà a buon fine www.amazon.com vedete che sicuramente la navigazione è interdetta vedete qui risoluzione ossa in corso vedete impossibile raggiungere il sito perché impossibile trovare l'indirizzo dns perché la richiesta dns è arrivata sicuramente a un computer che non esiste e ovviamente non c'è stata la risoluzione del nome di dominio sicuramente se rimpostiamo ovviamente le vecchie impostazioni la navigazione andrà a buon fine e quindi la risoluzione dns avverrà e noi avremo di ritorno la nostra pagina amazon in questo modo tieni indirizzo server dns in maniera automatica perché perché il router il nostro router sulla nostra rete fa anche da server dns o meglio fa da inoltro per i server dns del nostro isp in questo in questi campi posso anche mettere dei server dns che desidero per aumentare la navigazione come velocità io vi consiglio open dns ovviamente mononavica perché sono 208 vi dico gli indirizzi .67.222.222 come primario potete mettere 208.67.220.220 come secondario con valida impostazione uscita ok chiudi ora vedrete che la connessione verrà ripristinata fate annulla rilanciate di nuovo il browser www.amazon.com vedete che la pagina di amazon ci ritorna indietro se volete andiamo a vedere open dns questi sono i due server dns comunque li trovate a questa pagina se volete qualche informazione in più sono i due indirizzi p che ho messo nella nella barra diciamo delle impostazioni della della rete le armor vabbò oppure se posso 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 eccolo qua su wikipedia lo troviamo i due indirizzi p open dns sono dns abbastanza veloci potete anche mettere i dns di google sono 8.8.4.4 oppure se posso consigliarvi yandex si chiama yandex dns eccoli qui sono dei server dns abbastanza sicuri potete impostare anche una sorta di parent control per quanto riguarda i minori ecco qui i server dns ho fatto anche un video su come settare il server yandex dns per il la la protezione diciamo dei dei minori da contenuti espliciti bene ragazzi questo è quanto io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al mio canale grazie grazie